Bene, Coder, che viene da Ponte Mambolo, direzione Tivoli, Drago Saran, da 23.546, in Pattenza. Siamo a Tivoli, completamente vuota, già poi in anticipo. Andiamo. Bene, benissimo. Passola te campanè. Tombe. 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 Ci sono tanti negozi interessanti. fine costa e tutti i passezelli devono segnere siamo in aria a capoliglia Tau. 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 a tutti i bambini. Eccoci qua. Anche la poligna T.